Non è un anno casuale questo 2024 per San Giovanni in Croce. Ricorre infatti il decennale della maxi ristrutturazione di Villa Medici del Vascello che venne strappata all'incuria del tempo e al degrado restituita al suo antico splendore con un grande progetto di recupero grazie ai 2 milioni di euro arrivati direttamente da Roma. Fu la rinascita anche e soprattutto turistica per San Giovanni in Croce che sino a quegli anni sapeva di avere in casa quella che fu la dimora di Cecilia Gallerani, la dama con l'ermellino eternizzata da Leonardo da Vinci ma evidentemente non si era del tutto reso conto delle potenzialità di quel tesoro. Iniziata con l'amministrazione Ceresini per il reperimento di fondi e poi proseguita e terminata con l'amministrazione Asinari, la ristrutturazione di Villa Medici del Vascello si mostrò in tutto il suo splendore in una data fatidica con uno spettacolo passato alla storia del piccolo ma vivace comune Casalasco, 25 maggio 2014. Una data che per esempio nel vicino comune di Casalmaggiore segnava il primo ballottaggio per le elezioni amministrative ma non a San Giovanni in Croce che, sfalsato rispetto a tante altre amministrazioni, quella sera non aveva occhi e mente che per la villa, dice Cecilia Gallerani. A dieci anni di distanza si sta lavorando ad una pubblicazione perché nel frattempo Villa Medici del Vascello è cresciuta, è stata la prima dimora non emiliana a entrare nel circuito Castelli del Ducato e ha proseguito la sua formidabile impennata turistica con una serie di iniziative per tutti i gusti, tutte le età e tutte le stagioni. Il volume intende raccogliere esperienze, fotografie e scritti per mandare ai posteri questi primi dieci intensi anni di nuova vita per Villa Medici, sorta nel XV secolo, abbandonata dopo il 1945 ma ritrovata finalmente in un decennio glorioso e per una rinnovata storia che prosegue.